Se io fossi in te non dormirei così tranquilla. Sono entrato in casa e neanche te ne sei accorta, una di queste sere ti faccio fuori. È il contenuto agghiacciante di un SMS che un operaio trentenne di Gropparello ha inviato qualche giorno fa alla sua ex moglie di tre anni più giovane. Un uomo che non accettava, come purtroppo troppo spesso accade, che la storia con l'ex moglie fosse finita. Un messaggio che alla premessa inquietante è un fatto ancora più grave, avvenuto sabato 9 novembre alle 20. Dopo aver sfondato la porta a calci, l'uomo ha fatto irruzione nell'abitazione della 27enne che da un paio di mesi vive sola. La picchiata ha presa a pugni, l'ha ferrata alla gola cercando di strangolarla, ha rotto oggetti nella casa e poi se n'è andata con l'auto della donna. A parlare è referto dell'ospedale, sei giorni di prognosi per le botte e le contusioni riportate nell'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ai quali la vittima ha raccontato di aver ricevuto dall'ex marito un migliaio di sms nell'arco di 10 giorni, tutti dal tono minaccioso. Una situazione ad alto rischio che ha spinto la procura di Piacenza a emettere nei confronti del trentenne un provvedimento di custodia cautelare in carcere con l'accusa di stalking. Martedì sera l'uomo è stato rintracciato a Piacenza dalle forze dell'ordine e accompagnato al carcere delle novate. Dovrà rispondere anche dalle accuse di violazione di domicilio, lesioni e furto.